Bellissima rappresentazione, quella dell'inferno di Dante. Stasera in questo meraviglioso contesto, le golle dell'Alcantara, un unico in Sicilia, ma io dico anche in Italia e forse nel mondo. Questo contesto ha reso magica la serata, ma l'hanno resa magica gli attori, i professionisti che si sono susseguiti nel farci rivivere un grande poema italiano che è quello della Divina Commedia di Dante Alighieri. Personaggi nei loro gironi, nella loro complessa e articolata vita che viene ripresa da Dante Alighieri e stasera rappresentata da questi magici artisti. Complimenti a tutta l'organizzazione, complimenti alla regia di Giovanni Anvuso, ma soprattutto a questo mondo magico in cui stasera questa rappresentazione si è svolta, le golle dell'Alcantara.